scrivo in un intercolumnio del tempio di nettuno a pestum sono appoggiato all'ara che vide i sacrifizi sul mio capo si librano gli architravi monolitici che sfidano da 24 secoli la falce del tempo ai miei fianchi sono la basilica colossale e il tempio di cerere una selva di colonne sorge dall'ampia pianura malarica tra le stoppie e i canneti che vanno a bagnare le radici del tirreno di cui mi giunge il rombo solenne questo è tutto quanto rimane di posidonia fondata dai dorici in questi campi acquitrinosi ora immersi in una tragica desolazione furono un tempo gli incanti i fiori le ricchezze cantate da ovidio virgilio e marziale contese da sibariti lucani e saraceni il sole si avvicina all'occidente in una porpora infocata che incendia il mare è uno spettacolo meraviglioso un artista puro conquiso sarebbe trascinato alla contemplazione e all'estasi io artista inquinato dallo spirito positivo del secolo mentre ammiro traggo da tanta bellezza ispirazioni e suggerimenti pratici perciò scrivo scrivo per voi ciclisti che del turismo serio che dà nerbo al pensiero perlomeno quanto ai muscoli avete fatta un'abitudine e troverete perciò nel mio un riflesso del vostro pensiero scrivo per voi neofiti che una vigorosa spinta aiuterà a prendere la buona via scrivo anche per voi o ciclofobi di diverso grado anche se consiglieri e sindaci le mie parole vi faranno inarcare le ciglia vi troverete qui in un mondo morale per voi nuovo è un po incomprensibile ma chi sa mai che questa possa essere punzecchiatura che sgonfi il pneumatico dei vostri pregiudizi scrivo anche un pochino per voi alpinisti puro sangue che l'entusiasmo per il vostro nobile sport ha cristallizzato nell'ammirazione dell'alta montagna io pure sono alpinista e sento la poesia del ghiaccio della tormenta delle aspre rocce a fatica vinte ma chiedo il posto che gli spetta anche al turismo ciclistico chiedo che al vostro culto simpatico suggerito da un simpatico entusiasmo si sostituisca un eclettismo dovuto a maggior conoscenza dei fatti chiedo che il turismo ciclistico quale fattore morale e fisico di educazione si associa all'alpinismo non da fratello cadetto tollerato alla tavola del maggiorasco ma da fratello gemello cinematografare cinque giorni di escursioni in un paese nuovo è in presardita sullo sfondo sempre rinnovato del paese tratteggiare le persone e le cose che vi si muovono e l'essere mio stesso che è protagonista per me della scena e dare così non più la fotografia fredda e immobile ma il quadro animato che scorre davanti all'occhio è cosa che forse non mi riescirà e che certo alla fine vi darà l'impressione opprimente del cinematografo ma forse vi direte infine com'è vero e dunque a qualche cosa può servire anche il turismo ciclistico ordunque accendo la lampada proietto sullo schermo il disco di luce l'apparecchio comincia a girare e attacco grazie a tutti grazie